ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo di della dodicesima giornata di vantacalcio partiamo dalla mia formazione a porta ho messo una room che ha subito due gol e ha preso 4 e mezzo smolling in difesa smolling 6 e mezzo milenkovic 4 e mezzo mano lascia 6 romagnoli 6 e mezzo con l'assist però è stato ammonito poi centrocampo michi italiana 10 michi italiana ragazzi michi italiana è forte è forte italiana 10 ha segnato meccani 6 locatelli 4 e mezzo pedro partiamo dalla schifezza delle schifezze delle schifezze della giornata dell'attacco mamma mia mamma mia mamma mia è assurdo è assurdo è assurdo ragazzi è assurdo è assurdo alla fine vi dico grazie a chi ho perso pedro 5 e mezzo morata 4 e mezzo ronardo uno 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 che va a sbagliare le rigole va a sbagliare le rigole va a sbagliare le rigole non ce la faccio non ce la faccio la formazione del mio avversario scelto di sé scelto di sé scelto di sé fai miracoli perché sta contro di me spinazzola 6 e mezzo faraoni 5 e mezzo te non gli ha giocato teo hernandez non gli ha giocato e gli è entrato quadrato laziovic 5 laziovic 5 nandet 6 e mezzo depol 6 e mezzo barella 6 geco 6 berardi 7 e mezzo che ha fatto l'assist e belotti che mi segna contro ho perso ho perso 1 a 0 1 a 0 vi dico grazie a chi grazie a chi grazie a chi a tutto l'attacco però la maggior colpa la maggior colpa gliela do a cr7 gliela do la maggior colpa gliela do a cr7 che non mi può prendere uno non mi può prendere uno non mi può prendere non mi può prendere spero che la prossima si rifarà spero cioè ronaldo lì ha sbagliato proprio a tirare ricordi ha passato la palla al portino morata prestazione di un merda e pedro anche subentrava ragazzi la classifica ve la ripeto come sempre io sto al primo posto a 20 punti il secondo posto stanno due di loro al secondo posto sta questo qui che mi ha scondrato che ho perso 1 a 0 e sta al secondo posto a 17 punti con un altro che ha vinto contro l'ultimo posto che sta a 13 punti ragazzi la prossima ci dobbiamo affrontare contro l'ultimo posto spero che vinciamo così proseguiamo il nostro percorso come primi speriamo speriamo e niente ragazzi ciao lascia prima di salutarsi mi raccomando mi raccomando non dimenticatevi la cosa più importante la cosa più importante se il video vi è piaciuto lasciate tantissime like tantissimi tantissimi like oggi e iscrivetevi al canale se sei nuovo iscriviti al canale ciao ciao